Buonasera e bentornati a Salute Amica. Questa sera parleremo di una cosa estremamente interessante che tanti telespettatori ci avevano richiesto. Parleremo della nostra pelle e soprattutto in un periodo estivo parleremo della nostra pelle, il rapporto con il sole. Abbiamo qui con noi il dottor Roberto Cavagna, dermatologo. E qualche anno fa viveva da tutt'altra parte, poi ha deciso di venire a vivere al mare, ha scelto Follonica. Una scelta di vita, giusto dottore? Sì, una scelta di vita nel Golfo del Sole e nella Mineral Valley, quindi quale posto migliore per un dermatologo. Esatto. E si è trasferito a Follonica dove lavora negli studi medici serafini. Esatto. Oltretutto il dottor Cavagna collabora con la Lilt, con la quale fa prevenzione ma anche divulgazione di quelle che sono tutte le pratiche, le buone pratiche della pelle. La Lilt, lo sappiamo, opera molto sui territori, opera anche con le associazioni, le scuole e quindi è un grande lavoro che fa su tutto il territorio. Ma parliamo subito della nostra pelle. Sole e pelle, sono amici o sono nemici? Diciamo che come in tutte le cose, anche quelle tossiche, come i veleni, c'è sempre una dose giusta di somministrazione di posologia. Quindi anche il sole, come l'alcol, come le medicine, anche come i veleni, in omepatia per esempio, molti veleni vengono ultradiluiti per poi poterli utilizzare. Esiste la giusta dose e la giusta dose non è una dose prestabilita. Non esiste un milligrammo di sole da dosare uguale per tutti, ma va dosata secondo il tipo di pelle. Infatti poi potremmo parlare anche dei fototipi perché ha diverse tipologie di pelle, che sono chiaramente quelle etnie che noi conosciamo. Ci sono diverse sensibilità al sole, perché un eschimese non può stare al sole quanto un brasiliano, perché hanno pelli diverse e quindi problemi diversi. Quindi non si può dire che il sole sia amico o nemico? Diciamo che possiamo notare quelli che sono gli effetti della mancanza di sole. E quindi il sole è una cura per la pelle, perché la pelle è un pannello fotovoltaico che noi abbiamo, che ci produce vitamina D ogni giorno. Ecco, ma la pelle è un organo? La pelle è l'organo più profondo che abbiamo. È più esteso di sicuro. Profondo. Dico profondo perché normalmente noi la consideriamo una buccia, invece la pelle è profondamente collegata agli organi interni. Quindi qualunque stimolo, qualunque azione e qualunque farmaco applicato sulla pelle poi ha degli effetti anche interni che solo ultimamente siamo abituati a considerare. Questo organo ha un compito, proteggerci dai raggi UV. Esatto, il sole quindi dicevo, in certe dosi è utile, in certe dosi serve perché è una cura e quando manca il sole i bambini crescono arachitici perché manca la vitamina D, la nosificazione. Nel 1903 il primo Nobel fu dato a un medico finlandese il quale scoprì che con le lampade apposite anche nei paesi dove c'era poco sole si poteva curare e trattare il arachitismo. Da noi le colonie marine sono nate per questi motivi. Per questo motivo. Per cui il sole è utile nella fase di crescita, può diventare tossico quando se ne abusa o quando se ne riceve troppo rispetto al proprio tipo di pelle. Le creme protettive permettono di allungare l'esposizione al sole perché logicamente noi andiamo in vacanza, abbiamo tutta una giornata di sole, non possiamo dire che quel, io mi ricordo tanti anni fa sui giornali uscivano degli schemettini. Questo scusate, questo è il famoso premio Nobel 1903 che curava i bambini con una luce che simulava quella del sole per produrre vitamina D e quindi prevenire il arachitismo. Ho visto anche delle immagini dove anche in alta montagna c'erano dei malati che venivano portati con tutto il letto nel lago di Misurina per esempio, c'è la famosa dispensaria, lì addirittura anche per la tubercolosi perché certe malattie sono ossigeno sensibili, quindi certi batteri venivano trattati anche con la sole e aria di montagna. Ma dicevamo qualche anno fa, quando c'erano le riviste per signore, prima dell'estate davano una tabellina, primo giorno 5 minuti, secondo giorno 10 minuti, fino ad arrivare dopo 3 mesi che uno poteva stare al sole tutto il giorno, le nostre ferie non durano così tanto, quindi quando andiamo al mare noi ci mettiamo al sole e lì vogliamo stare. Ecco, la crema, la crema protettiva può consentirci questo? È come il casco, il casco protegge degli incidenti stradali ma non può permetterci di andare ai 200 in città, quindi in caso di incidente ci si può far male comunque. La crema protettiva protegge, chiaramente è logico che se si suda molto, ci si muove, si fa sport, si fanno diversi bagni, va rimessa perché non è eterna. Ci sono ormai varie formulazioni molto utili che sono quelle per esempio waterproof, quelle a prova d'acqua, sandproof, quelle antisabbia, quindi anche in chi fa sport beach volley o altri sport sulla spiaggia, può diciamo mantenere la protezione anche se si appiccica la sabbia o addirittura la sabbia non si appiccica. Quindi ci sono delle formulazioni ormai fantastiche, però soprattutto per i bambini che si muovono molto, saltano, giocano, va ripetuta spesso se il bambino ha per esempio un fototipo molto chiaro, occhi chiari. Ai bambini ci arriviamo, invece passiamo alla cliente che viene da lei e le dice dottore io sto per andare al mare, che cosa mi consiglia? Qual è l'esame che fa lei? Ed è un esame solo visivo o esistono anche degli esami scientifici? Allora, si fanno un po' di domande perché la prima cosa che si vede è la differenza etnica della pelle, per cui una pelle nordica come il fototipo 1 che vedete con il bambino con occhi azzurri. Ecco, teniamo questa immagine perché ci possiamo lavorare molto. I fototipi bassi, che quindi sono nordici, con capelli chiari, occhi chiari, come vedete, si scottano con facilità e si abbronzano poco, più che una duratura non danno. I fototipi più alti, invece, sono praticamente già protetti per una buona parte della loro pelle perché nascono e crescono in ambienti in cui dal sole ci si deve proteggere e quindi dal sole ci si espone già naturalmente, ma difficilmente si scottano, quindi difficilmente hanno degli eritemi o delle dermatiti solari, però comunque anche loro devono proteggersi perché la bronzatura e il colore della pelle protegge fino a un certo punto. Se facciamo un esempio poi di fototipi traslocati, pensiamo per esempio agli australiani. Ecco. Ecco, nel film Crocodile Dundee, lui è biondo, con pelle chiara, ed è classica tipologia inglese dei coloni che hanno colonizzato l'Australia, ma gli aborigini australiani sono molto scuri, quindi lì ci sono due etnie completamente diverse sotto un sole tremendo che spacca le pietre e quindi lì c'è il più alto tasso di tumori della pelle in Australia. Guardiamo ancora questa immagine. Abbiamo un fototipo 1 che va a lavorare, ora a quest'età non è un po' troppo presto, ma insomma va a lavorare come pescatore, sta tutto il giorno. Ecco, questa pelle muta con il tempo, cioè si abitua o non si abituerà mai? No. Chi nasce salice non diventa pioppo, dice il proverbio. Quindi esiste, diciamo, un patrimonio genetico. Cioè, quelli che dicono la mia pelle, sì, sono chiara, però la mia pelle è abituata a prendere il sole. Spiego perché. L'imbianchino della nostra pelle, che si chiama melanocita, ha delle tanniche di colore diverse, per cui il melanocita del bambino biondo con gli occhi azzurri ha un colore che non sarà mai un colore cioccolato, ma ha della melanina, che si chiama eomelanina, scusate, feomelanina, la quale è rossa e quindi diventa al massimo massimo un dorato bruno, non diventerà mai nera. Invece l'eomelanina, che è quella dell'aborigeno australiano, quella nasce già così scura, quindi il melanocita, la pelle di queste persone, geneticamente produce una vernice, quindi una protezione più scura, mentre l'altro produce una vernice, una protezione più chiara, che si chiama melanina. Quindi c'è, se guardiamo, anche una differenza incredibile, perché i fototipi bassi hanno lentigini e felidi, no? Sì. Pipi calze lunghe o anche i rossi, sappiamo che hanno delle lentigini, delle macchie sul viso, che è il massimo della loro pigmentazione, mentre invece le persone di fototipi alti difficilmente hanno e felidi o lentigini. La mamma di questo bambino qua dovrà mettere la crema solare al figlio? Dipende quanto si espone, perché dopo un certo periodo anche la sua pelle diventerà rossa. Sa come si fa? Come si fa? Ci si mette al sole e si cronometra. Sì. Allora, si chiama MED, o Minimal Eritemal Dose, cioè la dose minima di eritema. Tutti noi sappiamo quant'è. Se io vado al sole, dopo 15-20 minuti divento rosso. Quindi so qual è il mio tempo di esposizione, oltre alla quale la mia pelle non sopporta più il sole. Quindi ognuno ha un minimo tempo di eritema, per cui in quella fase la sua pelle sopporta il sole. Come un bevitore. Uno sa che con mezzo bicchiere di birra o un bicchiere può resistere, con una pinta di birra no. Quindi ognuno ha la propria dose che è personale. Quindi misurando, proprio cronometrando, in quanto tempo la persona diventa rossa, lei sa che quella dose tutti i giorni la può prendere. Di più no, perché diventa rosso e si scotta. Quindi se il bambino biondo ha 5 minuti di dose di eritema, poi diventa rosso, questo molto più pigmentato avrà 25-30 minuti di sole di esposizione in cui può stare tranquillo. Dopo quei minuti dovrà mettere la protezione perché altrimenti è come se bevesse più aicolo. La sua pelle comunque ne risente. Abbiamo detto una parola che è l'incubo dell'estate, eritema. Ma che cos'è l'eritema? C'è una slide che forse troviamo in cui si vede la differenza del raggio solare quando arriva sulla pelle che viene riflesso, assorbito. Ecco questa, vedete? Il sole cosa fa? In parte viene riflesso dalla pelle, in parte viene assorbito, quindi scalda, in parte arriva fino al tratto basale dove vasodilata i vasi. Cosa succede? Che il primo effetto termico del sole vasodilata e la pelle diventa rossa. Dopodiché normalmente si spegne. Il rossore della pelle è come la lucina del cruscotto che dice che siamo in riserve. Dice adesso basta, devi metterti all'ombra. Perché quando sei rosso vuol dire che di più non sopporto. E quindi questo è il momento in cui applicare le creme o mettersi all'ombra. Le macchie invece sono un effetto secondario e la bronzatura di stimolazione di questi rametti che si vedono che sono i melanociti che sono gli imbianchini della pelle. Sono quelli che dipingono e pitturano la nostra pelle nel giro di 24-48 ore. Le macchie sono quelle che vengono sulla pelle quando uno prende molta abbronzatura? Sì. E vengono nelle parti più esposte logicamente. Esatto, esatto. E possono venire quindi sul decoltè, sul viso, sul dorso delle braccia, delle mani. Ma possono andare via? Sì, le macchie si trattano tranquillamente in vari modi. Si trattano sempre in inverno perché è come con le barche. No, bisogna fare il rimessaggio autunnale, poi si puliscono gli scaffi, si tolgono le patelle e si curano le macchie. Perché quando ci si espone al sole è un controsenso schiarire e poi abbronzarsi. Per cui il melanocito non capisce più cosa stiamo facendo. Ecco, ma queste macchie di cui io peraltro abbondo, perché sono una di quelle persone che sta in spiaggia avanti e dietro. Si dice che siano delle lesioni della pelle o soltanto una cosa estetica? No, allora, ci sono vari gradi. Le macchie solari, e poi la parola macchie è uno spettro di tante manifestazioni cutanee, che possono essere macchie ormonali, per esempio in gravidanza, che vengono perché gli estrogeni stimolano questi imbianchini della pelle a produrre più pigmento. Ci possono essere macchie solari legate al sole e macchie senili legate invece all'età. A volte le cose si sommano, per cui nel corso degli anni le gravidanze, il sole e l'età stratificano queste macchie. E le macchie sono un accumulo di vernice, come se l'imbianchino rovesciasse della vernice che macchia la pelle. Quindi sono pericolose. E quella si può pulire. I nei invece sono un accumulo invece di cellule, di melanociti che crescono. Allora quei casuali diventano pericolose perché non sono più solo macchie, ma sono invece cellule melanocitarie che crescono. E quando il nostro corpo e le cellule aumentano, bisogna porsi delle domande e vedere se è una crescita normale, fisiologica, legata all'età o se è improvvisa. Ecco, questa era una delle domande che mi interessava particolarmente. Perché una persona che ha molti di questi nevi o nei, come li vogliamo chiamare, può prenderlo il sole? Certo. Deve proteggersi? Lei ha mai visto un... Totalmente, perché io vedo delle persone che si danno la protezione sul nevo uno per uno. È come andare col bianchetto sulla pelle di un dalmata, no? Esatto. Però i dalmata mi risulta che non abbiano più tumori degli altri cani. Quindi il problema dei tanti nei non è legato all'esposizione, o perlomeno non tanto, perché non c'è una grande differenza statistica tra persone che hanno tanti nei e persone che hanno pochi nei nevi nello sviluppare tumori della pelle. Il problema qual è? Che avendo tanti nei è più difficile controllare, perché è più facile controllare un greggio di 5 pecore che un greggio di 500 pecore. Quindi quando un dermatologo vede tanti nei e anche la persona stessa ha difficoltà a riconoscere se uno di questi si sta modificando rapidamente, perché nel gruppo è più difficile focalizzare. Logico che una persona che ha tre nei lo vede subito se uno di questi cresce. È più un problema di prevenzione. Infatti la prevenzione è primaria, secondaria e terziaria. Prima, durante e dopo, no? Lo sviluppo di un tumore. La prevenzione primaria è quella salutista, di mettere le creme, proteggersi, cappelli, occhiali, magliettina anche per i bambini quando si espongono molte ore. La secondaria è quella appunto di fare delle indagini e quindi insegnare alle persone a riconoscere i nei, perché è folle che oggi si muoie di un tumore che si vede. Quindi il controllare i nei è una cosa che non c'entra niente con il sole? Il controllare i nei è a prescindere, perché purtroppo ci sono casi di melanoma in persone che non sono mai esposte al sole. Il melanoma è sempre maligno? Il melanoma è sempre maligno. Può essere, diciamo, curato e trattato rapidamente e quindi guarire. Ci sono persone che sono guarite di melanoma, tanti guariscono di melanoma e questo accelera ancora di più la necessità di fare diagnosi precoce, perché se viene tolto in tempo è come una miccia. Se il nevo viene tolto in tempo, parliamo proprio di che cosa? Perché qui si parla di un puntino che poi spesso quando si va a aprire si scopre che è molto più radicale. Le lesioni che crescono rapidamente, lesioni che sono molto più brutte e più scure delle altre, che possono sanguinare, che fanno crosto e che danno sensazione alla persona di un fastidio, qualcosa. Normalmente i nei non danno fastidio, per cui anche chi ne ha tanti non soffre. Però il melanoma, quando comincia a rosicchiare e a erodere, quindi da dei sintomi che un neonormale non dà. Si è tolto in quella fase, si guarisce e non ci sono problemi. Se si trascura e non lo si toglie, come ha fatto Bob Marley, si fa una brutta fine, perché se avete visto il film One Love, che dichiara appunto la morte di Bob Marley perché aveva un melanoma all'unghia dell'alluce. Non l'ha fatto curare perché secondo lui, secondo la sua religione, l'autoguarigione poteva salvarlo e invece non è stato così. Ecco, quando noi andiamo a far vedere i nostri nevi a un dermatologo, dobbiamo essere noi ad indicare quelli che ci fanno più paura o li vede autonomamente? Poi c'è quella macchinetta che passa, che ancora... Il dermatoscopio, sì. Che cosa fa vedere quella macchinetta? Allora, diciamo che il dermatologo ormai ha lo scanner, quindi quando passa sulla pelle, segnala subito l'occhio allenato, no? Qualcosa che non va. Ma è molto importante anche il riferito del paziente, perché se un paziente mi riferisce che ha un fastidio in una zona, oppure ha l'impressione, o la moglie gli ha detto, guarda che questo nevo mi sembra cambiato, modificato, è molto importante questo, perché vuol dire che nonostante lo veda tutti i giorni, la modifica è rapida. E quindi questo è un segnale da cogliere. Poi noi dermatologi abbiamo diversi strumenti, tutti quanti utilizzano olio o gela di immersione, per cui la differenza che c'è è fra una foto, per esempio, fatta al mare dall'alto, e una foto fatta con la maschera sott'acqua, perché quando noi guardiamo col dermatoscopio, oltre ad ingrandire la lesione, la vediamo in trasparenza, perché c'è una luce anulare che illuminando il nevo in trasparenza ci dà una specie di stratificazione. Quindi fino a un certo punto riusciamo a vedere la profondità di questo nevo e controllarlo, e quindi vedere i bordi, le dimensioni. Poi nella lente c'è un righello millimetrato, per cui anche ingrandendolo sul computer riusciamo a vederlo ingrandito e confrontare se nel tempo c'è stata una modificazione. Ci sono delle zone che però sono difficili anche da vedere, sotto le ascelle, all'inguine. Certo, sotto i piedi. Sotto i piedi. Dove normalmente uno non guarda, però a volte si trova. Quindi quando uno va a fare una visita di questo genere, è bene che sia proprio in ogni angolo. Sì, va fatto dalla testa ai piedi il controllo. Anche dietro le orecchie o sulle orecchie, perché come diceva prima, chi fa il pescatore, il contadino, altre cose, ma anche semplicemente i golfisti che hanno il cappellino con l'orecchio esposto, in queste zone spesso si sviluppano delle, a volte dei tumori che non sono melanomi, ma sono per esempio le keratosi attiniche, perché attiniche vuol dire prodotte dal sole, no? Che sono delle squamette, delle crosticine che... Quelle si possono togliere. Che non guariscono, però vanno tolte rapidamente, se no diventano dei carcinomi, infatti qui forse c'è un'altra immagine. Ecco, casi clattanti anche di attori e attrici, no? Che hanno fatto da volto la promozione, tipo la Ferrari, la conduttrice sportiva, o anche Jack Jackman, che è l'attore di Wolverine, quei film... Quindi anche quelle crostine che non guariscono mai. Sì, lui è l'esempio australiano di un colone inglese, no? Che vive sul tropico del Capricorno, quindi esposto a un sole tremendo, dove c'è il buco di ozono, in Australia c'è uno strato molto basso di stratosfera, e quindi non c'è, diciamo, la protezione dei raggi UVC, che sono quelli dannosi. Volevo chiederle un'altra cosa. Vanno molto di moda le creme, invece che con la protezione, le creme abbronzanti, acceleranti. Che cosa facciamo? Quanto sono pericolose. È vero che accelerano questa abbronzatura? Sì, sì, accelerano l'abbronzatura, però lo fa una discapita della nostra salute, perché è come quando si tarocca il motore di un'auto, no? Si prende una 500 e la si porta alle prestazioni di una Ferrari, ma la 500 non è nata per essere una Ferrari. Quindi quando dobbiamo frenare, sterzare o fare altre manovre, succede l'incidente. Quindi le creme che autoabbronzanti, no? O che accelerano l'abbronzatura. Lo fanno usando dei pigmenti o delle sostanze che fanno come l'orologio fluorescente, no? Assorbono le radiazioni ultraviolette e anche dopo continuano ad emetterle. Quindi è come se noi anche dopo continuassimo a esporci al sole. Questo però non fa bene alla pelle, perché questo supera la nostra dosi di eritema. Torniamo al punto dell'eritema. Al punto alto. Quindi è come caricare di alcol, no? Una persona, ecco qui vediamo tutti i vari lati positivi e negativi del sole, no? Le cose buone, calore, energia, azione antibatterica, vitamina D, pigmentazione, riparazione e le cose negative che sono inquinamento, fotoallergia, fotossibilizzazione, lesioni cutanee, eccetera. Vediamo, lesioni del DNA. Anche questo. Sì, perché gli ultravioletti hanno diversi gradi di penetrazione. e c'è una slide in cui, parlando delle varie cellule della pelle, faccio vedere gli UVA, gli UVB, gli UVC, in cui c'è un effetto diverso a seconda della radiazione, perché non c'è solo radiazione ultravioletta, c'è anche quella infrarossa che è quella che scalda, ma a volte è troppo calore, produce anche lui dei radicali liberi. Ecco, qui vedete gli UVC, gli UVB e gli UVA. Gli UVA, che sono quelli classici delle lampade abbronzanti, sono quelli che arriva più in profondità. E in profondità bisogna fare poi la riparazione. Vedete, questo è il fibroblasto, che è il super Mario della pelle, che ripara le lesioni cutanee. Infatti, nelle persone che si espongono molto al sole, come i pescatori, i contadini, i vigili urbani, quelli che stanno al sole tanto tempo, consiglio di prendere degli integratori, che stimolano invece il fibroblasto, le cellule di Langerhans, che sono cellule riparatrici del danno. Quindi sono degli integratori per bocca, che oltre alle creme ci aiutano a riparare il danno molto prima. Quindi le lampade abbronzanti? Abbronzanti lavorano molto in profondità, e allentano o frantumano il collagene e quindi predispongono all'invecchiamento precoce. Grazie dottore, è molto gentile di darci queste notizie per noi amanti. Sono notizie note, ma che cerchiamo di ignorare, perché chiaramente poi... Parliamo di bambini, protezione 50 fino alla maggior età? Poveri, perché? Eh, non lo so. No, diciamo che non teniamo i bambini sotto una campana di vetro e neanche di... Di protezione. Di protezione, nel senso che, come dicevo prima, dipende dal colore dei capelli e degli occhi del bambino. Quindi avranno dei periodi in cui per pochi minuti possono stare al sole con la pelle nuda, perché hanno bisogno di produrre vitamina D e di calcificare, come anche le donne fino all'età della menopausa, perché sappiamo che il calcio viene perso progressivamente nel corso degli anni. Quindi la mancanza di sole, soprattutto nella vita d'oggi, perché ormai si vive in scatola tutto l'anno, tranne quella settimana, due, forse tre di ferie in cui ci si espone, e quindi la pelle ha bisogno di sole. E anche il bambino, soprattutto nella fase di crescita, ha bisogno di sole. Se però si fa una vacanza, giustamente, questo gioca, si comincia con una 50 e poi man mano che si abbronza, si passa una 30 e poi si scende. Le creme solari vanno da 0 a 50 come protezione. La 50 più è quella che una volta si chiamava totale, ma è altissima protezione. Se fosse totale saremmo felici. Le mamme cospargevano i bambini di Nivea. Sì. Perché si diceva che fosse una crema, cioè era poi la copertone con la bambina che... La copertone è già una crema abbronzante. La Nivea, l'abbronzante l'ha fatto qualche anno dopo. Ecco, quelle creme facevano ustionare tutti... Sì, esatto. Perché idratando la pelle aveva meno effetto di riflettanza, infatti è come quelli che si bagnano, no? Eppure mi raccomando, mettiti la crema. Erano le raccomandazioni dei genitori degli anni 60. Adesso la crema c'è, viene consigliata, però i bambini sfuggono ancora. Soprattutto i ragazzini appena riescono a scappare dall'ombrellone, spariscono e non si fanno più vedere. Spesso le mamme mettono la crema la mattina a casa, ungono tutto il bambino, mettono poi costumino, magliettina, pantaloncini, si va in spiaggia. Poi ripetono dopo tutti i bagni. È questo il giusto... Messa prima di uscire la crema ha due controindicazioni. La prima è che il 50% viene assorbito dall'abito, dall'abito, dagli indumenti. E quindi si perde già una parte di crema. Io... E poi il secondo svantaggio è che manca quell'effetto terapeutico del sole dei primi minuti. Per cui se si va in spiaggia e si fa 5, 10 o 15 minuti en plein air, al sole, col bambino che prende un po' di sole e pian piano si abbronza, dopodiché si può mettere la crema. Cioè questa è una rivoluzione. Cioè la mamma prima ancora di levargli la maglietta comincia a ungerlo. Sì, a volte anche la sera prima. Potete lasciare 5, 10 minuti e gli fa bene il bambino senza crema. Non succede niente. Poi all'intervento è come fare la doccia con l'impermeabile, nel senso che non arriva il sole sulla pelle e il bambino poi dopo ne soffre. Parliamo di un argomento che è così. Uno non ne vorrà sole e rughe. Che dire? C'è una foto... Ecco, questa signora. Che fa terrorismo, che è questa, no? Che avrete visto ovunque. Non so se è vera o se è una fake, però diciamo che rende l'idea e ha fatto storia. Questa è la foto di un camionista americano che ha guidato tutta la vita il camion e come vedete il lato finestrino è quello che mostra. Questo lato destro è il suo cronoinvecchiamento, cioè la sua pelle è invecchiata negli anni così. Questo sul lato sinistro è cronoinvecchiamento invecchiamento più fotoinvecchiamento. Quindi qui si è aggiunto il sole ad accelerare la vecchiaia. E con questo noi donne... No, c'è salvavita. Qual è il salvavita? Il salvavita è la cosmesi. Ah. La cosmesi ormai ha fatto passi da gigante, per cui ormai sappiamo quasi tutto della pelle e non solo la cosmesi ma anche gli integratori. Perché come dicevo prima, no? Anche per la fotoprotezione non si parla più solo di crema, ma anche gli integratori minerali per la pelle, ma soprattutto anche minerali, ecco, anti-età. Il rame, per esempio, assorbe il 98% di radicali liberi. Lo zinco protegge il 43% dagli UV. Lo zinco, fra l'altro, viene sia assorbito che utilizzato come schermo riflettente solare, no? D'altronde, tutte le paste riparatrici, dalla pasta di Fissan, senza fare nomi, all'altro sono le più usate e le più note. Il magnesio, che è un antiossidante fantastico, riduce della metà i danni del photoaging. Il ferro aumenta di quattro volte la produzione di collagene. Siccome la radiazione, si diceva, colpisce il collagene, quindi predispone alla ruga, è importante ripararlo subito, quindi aumentare la produzione di collagene. Quindi, se noi facciamo una prevenzione, è vero che d'estate al sole un po' la pelle viene maltrattata, però poi la sera a casa la curiamo, quindi possiamo, diciamo, Lei fa molta anche informazione su queste cose, sia a... Sono un chiacchierone. No. Nel senso che amo divulgare, amo far innamorare della pelle, perché per me la pelle è la cenerentola degli organi. Tutti ce ne dimentichiamo, però poverina lavora tanto e ci dà delle soddisfazioni incredibili. E allora lei ci deve promettere di tornare qui al più presto per raccontarci altre cose della pelle. Volentierissimo, volentierissimo. Perché siamo rimasti ancora alle prime cose, abbiamo visto soltanto il sole, ma ce ne sono di cose di cui parlare, veramente tante. Sì. E noi allora ringraziamo il dottor Roberto Cavagna e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Salute Amica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.